Cosa consiglia oggi Penny? Dopo aver cotto a parte un misto di verdure, un poco olio con la cipolla, io ho utilizzato zucchine, melanzane, peperoni e qualche patata parchiata a tocchetti, lo fruiamo. Lo riduciamo quindi a purea. In una ciotolina prelevate metà della besciamella light pronta e ci aggiungete la purea in un fila di verdure. Distribuitela sul rotolo, lasciando una ciotola di verdure. E' un paio di centimetri all'inizio e un paio di centimetri alla fine senza impasto. Aggiungiamo ora la salsiccia briciolata, arrotoliamolo pian piano. Tagliamo la parte eccellente così almeno diamo la forma giusta. Lo chiodiamo con la pellicola. Lo togliamo da freezer e lo cominciamo a tagliare. un coltello ben affilato, leggermente umido. Pronto riprendiamo l'altra parte della besciamella, aggiungiamo uno o due cucchiai di latte e la riportiamo di nuovo ad essere semi liquida. e la mettiamo sulle girelle. Un po' di pepe, parmigiano, mazzarella. Un po' di pepe, parmigiano, mazzarella. Salute a tutti, fai ciocciolo con la manina. Ciao!